Carissimi ben ritrovati in nostra compagnia, in compagnia di Marco Summa che avete sicuramente riconosciuto, io sono ospite di MS Cars, mi trovo a Rivoli in corso primo Levi 23 e il mio benvenuto oggi è con il monopattino di MS Cars, perché innanzitutto buongiorno. Ciao anche a te Sonia, perché MS Cars non si ferma mai, è sempre in movimento quindi anche oggi ci saranno tante novità sul chilometro zero, sull'aziendale ma soprattutto ricordo a tutti che già ci conoscono che siamo Suzuki Point ufficiali qui a Rivoli, quindi la zona ovest la copriamo e speriamo di coprirla molto bene con tutta la gamma in pronta consegna di Suzuki, vi ricordo Suzuki è soprattutto ibrido a partire da 13.800 euro, avete capito bene, in più ci sono campagne finanziarie accessibili a tutti con un tasso cevolato, niente meno Suzuki vi regala altri due anni di garanzia quindi diventano 5 e tutte le campagne rottamazioni su tutta la gamma Suzuki. Ma voi potete accedere anche alla promozione parto e riparto e avere in casa un monopattino come questo? Infatti scoprite come averlo, qui sicuramente lo potete comprare oppure aderendo alla nostra operazione parti e riparti vi ricordo esclusiva MS Cars, la vostra vettura nuova o aziendale con tutto compreso. Ma in MS Cars si parte alla grande anche acquistando un'autovettura d'occasione, occasione si fa per dire, breve selezione per voi. Usato di tutte le marche come questa splendida Toyota RAV, qui parliamo di un crossover del 2009, proprietario unico, 124.000 km, versioni luxury, cambio automatico, tutto tutto di serie, 7.800 euro. Anche qui parti e riparti quindi piccole, piccole rate, poco anticipo, avrete tutto insieme dall'assicurazione ai tagliandi e quant'altro e potrete decidere poi se chiuderla o continuare a pagarla. Abbiamo anche il chilometro zero come questa Toyota CHR ma non c'è solo lei, a partire dai 23.400 il suo prezzo, anche qui parti e riparti con la formula operazione esclusiva MS Cars. Questa per esempio è una splendida Golf 7, qui parliamo di un turbodiesel, chiaramente 1.6 da 115 cavalli, anno 2018, pochissimi chilometri, 19.9, ancora in garanzia, anche lì sul parti e riparti avrete comprese 24 mesi di garanzia. Ma abbiamo tutto il prodotto, chiaramente vi ricordo, fatturabile e vesposta, quindi per tutti quelli che hanno la possibilità di scaricare l'IVA su queste vetture lo potrete fare. 14.990, anno 2018, qui parliamo di una Giulietta, 120 cavalli, JTDM, business, anche questa pensate, 18.000 chilometri, IVA compresa, parte e riparti con operazione MS Cars. Splendida, qui spenderei veramente due parole in più, piace tanto anche a me, parliamo di una berlina di casa Alfa Romeo bellissima, allestimento super, quindi tutto di serie. Pensate, nera, metallizzata, con un interno rosso in pelle, rosso e nero, fantastica. 23.000 chilometri, 25.300 euro, anno 2018, parliamo di un 2002 turbodiesel da 180 cavalli. Tutto il mercato aziendale, anche qui pochi chilometri, pensate, questa ha, esempio, 23.000 chilometri, è una L13 da 95 cavalli, allestimento cross, quindi molto aggressivo, a 15.400 euro. Occhio al prezzo, comprensivo DIVA, anche qui operazione, parti e riparti, esclusiva MS Cars. E anche qui potete permutare la vostra vettura, che è sempre gradita, chiaramente verrà valutata e vedremo quello che potremo offrirvi. 14.600, anche qui potete scegliere un altro colore e un altro allestimento, perché qui parliamo di allestimento super, 20.000 chilometri, 2.018, 14.000, anzi scusate, 2.017, 14.600 euro. Abbiamo anche delle X, questa per esempio, non vedete il prezzo perché l'abbiamo già venduta, ma ne abbiamo altre in arrivo dal mercato ufficiale italiano, con IVA compresa. Ma parliamo di questa splendida occasione, qui veramente direi occhio al prezzo. Se avete bisogno di una vettura splendida, ancora fresca, pensate del 2017, con 38.000 chilometri, guidabile da neopatentati, qui parliamo di un 1.300, multijet S tipo 5 porte, 10.100 euro. Veramente direi un prezzo fantastico da poter finanziare completamente, oppure formula, parti, riparti, tutto, tutto compreso. Non avrete pensieri, ci pensiamo noi di MS Cars, ma MS Cars è anche macchine fresche, qui parliamo di uno splendido crossover, questa volta di casa Ford. Questa è una Cuga, scusate, allestimento ST Line Power Shift, quindi vuol dire che avete un cambio automatico, 2WD del 2017 luglio, quindi ha fatto adesso due anni auguri. 19.200 euro, IVA compresa, anche qui la potete finanziare con parti e riparti MS Cars. E concludiamo con una bella reginetta di casa Suzuki, ad un prezzo davvero imperdibile. Splendida, è veramente nuova in tutto e per tutto, e parliamo di nuova Vitara, a partire da 17.900 euro. Venite a scoprirla, la potete scegliere 1000, 1400 oppure GPL. Ma ci sono tante altre belle e sorprendenti opportunità d'acquisto qui in MS Cars, in corso Primo Levi 23 Arrivoli. Venite a scoprirle, perché per esempio il gioiellino che ho provato prima, che mi ha permesso di partire e ripartire, ed è qui con Edoardo Suma, è veramente la soluzione alternativa al vostro tutto quotidiano. È vero Edoardo? Sì, movimento ecologico. Movimento ecologico, è questo lo slogan con cui salutiamo i nostri amici in quest'estate? Corso Primo Levi 23 Arrivoli, vi aspettiamo, dal lunedì al sabato siamo sempre qui su Zucchi Point ufficiali e tutti i parti e riparti su tutto l'usato e il chilometro zero aziendale. Grazie a Marco Suma, grazie ad Edoardo, grazie a voi per l'ascolto e come sempre linea alla regia.